ecco qua ciao a tutti come promesso vi faccio vedere come si taglia la visiera sempre per il covid 19 e io premetto non ho la lama craft purtroppo e quindi dovrò arrangiarmi con quella che ho e farò un settaggio a modo mio sperando che mi taglia bene l'accettato e ora andiamo nella libreria e ci andiamo a prendere appunto il template per la nostra visiera apriamo e vi trovate questi due file allora uno per l'elastico per l'elastico stretto lo dice anche qua guardate e uno per l'elastico largo queste sono diciamo quelli che devono tenere per rafforzare questo buco per l'elastico io andrò a tagliare quello con l'elastico largo bene ora io faccio mi copio questo sul nuovo livello nuovo pagina ho preso sempre una 4 faccio incolla e posiziono sopra ora faccio separa e togliamo la scritta detto questo andiamo su invia troviamo accettato ecco vedete accettato di foglie sottili qui io metto autolama e autotaglia logicamente perché non ho la lama craft se io faccio invia mi viene fuori questa finestra e mi dice che questa impostazione non va bene per l'accettato devo mettere quello che è compatibile con questa lama purtroppo non avendo la lama craft faccio ok e non succede niente quindi ho dovuto fare un'impostazione mia e ho fatto vi faccio vedere io ho preso per esempio un'altra cartoncino adesivo per esempio e ho messo autotaglia e autolama e sono andata qua e mi sono fatta le mie impostazioni per esempio ho messo velocità facciamo 4 forza anche un po di più perché come ho detto io ho dei problemi comunque con la lama normale tagliare l'accettato e metto profondità lama ho messo un 9 e mi sono salvata per esempio faccio salva con un nome in questo caso c'è già accettato mio posso fare accettato mio 2 così salvo ok ho salvato chiudo vado in sempre materiali e mi vado a cercare la mia impostazione vedete accettato mio 2 scusate nell'impostazione non ho fatto il taglio quindi seleziono ora e faccio taglio angolo oppure anche taglio va bene lo stesso in ogni modo fatto questo dobbiamo andare nell'altra visuale vi faccio vedere tagliare l'accettato e poi costruire la nostra visiera bene vedete io ho preso questo che è un foglio di plessigas a4 e l'ho messo sul tappetino ora andiamo a tagliare come ho detto con la cameo 4 plus devo ringraziare comunque simone per avermela mandata che la volta precedente nel video precedente mi sono dimenticata logicamente tutti gli accessori tutto quello che mi serve lo prendo da creativamente plotter punto it bene ora andiamo a tagliare ok ora ha finito e vediamo se me l'ha tagliato perché non avendo non avendo la craft faccio fatica infatti vedete me l'ha tagliato ma non non bene ma vi assicuro che se avete la lama craft taglia perfettamente vedete ora lo vado basta piegarlo e ed ecco qua non so di spegnare la luce qua non so se adesso lo vedete ve lo metto sopra vedete non so se si vede tagliato perfettamente ora andiamo anche a prenderci i nostri tondini per il rinforzo dell'elastico poi vi faccio vedere come assemblare il ora assembliamo la nostra visiera e ci serve del biovisivo spessorato della spugna di imballaggio gomma crepla questo è il biovisivo spessorato perché se non avete e questo è il biovisivo normale e il nostro elastico e questa è la visiera e dico biovisivo spessorato perché se non abbiamo la spugna per imballaggio vedete che è così grossa deve essere almeno due centimetri e lunga 15 io faccio diversi strati di questo biovisivo ne metto uno sull'altro per fare diciamo lo spessore di un centimetro come questo di due centimetri scusate vedete come questo perché serve per poi far sì che il naso non tocchi nella visiera io farò questa questa spugna prendo e gli metto il biovisivo sia da una parte che dall'altra per poi mettere questa gomma crepla e l'altro fiorato lo metterò davanti ora metto il mio biovisivo trasparente lo posiziono sopra per farlo uguale e lo taglio ora lo rifilo io uso questo perché lo rifilo perché è quello largo ma se avete quello di due centimetri non avete bisogno di rifilarlo il restante io lo metterò sopra per attaccarci l'altra parte della gomma crepla ora attacchiamo tolgo la pellicola che è sempre una fatica quindi metto questa per togliere la pellicola serve un attrezzo puntito per fare leva perché è sempre difficile io non ce la faccio mai a togliere questa pellicola ok ora ci metto questo questa gomma crepla fiorata che andrà sul davanti dove si vede rifilo a pari vedete? ora metto il bioadesivo sopra faccio nello stesso modo di prima rifilo rifilo io premetto questo video lo trovate anche cioè il video per assemblare questa visiera lo trovate anche nello store di silhouette cameo io l'ho fatto a modo mio non ho visto l'altro quindi non vi so dire ora rifilo bene ok lo andrò a posizionare sulla mia visiera deve essere in mezzo ai due buchi vedete? vedete? è trasparente e si vede il disegno sotto ora centriamo bene ecco qua mi raccomando bene il centro vedete? questo è quello che si vedrà su davanti ora andiamo a mettere sempre la gomma crepla sopra questo sarà quello che ha contatto con la fonte e da in modo che se sudi non si attacchi alla gomma per imballaggio ok lo andiamo ad attaccare rifilo vedete? e andiamo poi a inserire vedete il filo il nostro elastico questo è il nostro elastico ne prendo circa 35 cm ok e andremo a inserirlo con questi rinforzatori per far sì che non si rompino vedete i cerchetti con il bucho in mezzo quindi ne passo prima uno sull'elastico poi lo passerò sulla mascherina ed infine metterò l'altro cerchetto e farò il nodo e così farò anche dall'altra parte vedete questo l'ho inserito lo inserisco nella visiera passerò all'altro cerchetto e farò il nodo e come ho detto così farò anche dall'altra parte come ho detto vi trovate anche il video di come costruirla sul sito della Silhouette America dove avete scaricato la visiera ed ecco qua la nostra mascherina finita vedete bene io spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un pollice in su io l'ho fatto a modo mio spero che vada bene vedete questa è l'altra io ho fatto lo spessore con il bioadesivo spessorato e ho fatto queste due spero che sia piaciuto e ciao alla prossima ciao